Volevo chiederti, tornando, prima avete accennato alla strategia di Marconi che non si capisce, ma io ricordo qualche tempo fa che un giornalista, anzi più di uno, gli fece una domanda e lui giustamente disse, ma io non vengo a dirlo certo a lei, nel senso che chi è capitano di impresa magari sta attento anche a quello che dice, a non svelare, anche queste problematiche qua, no Paolo Turati? E poi non c'è anche un redderazione in questo paese tra imprenditori, i sindacati, per tutta la storia difficile che c'è stata anche in questo senso. Dunque, intanto due osservazioni rispetto alla discussione che c'è stata precedentemente. Il governo assente, certo, il governo assente in questa fase, d'altra parte stiamo parlando di un'industria che negli ultimi vent'anni si è dimostrata da un punto di vista economico e finanziario inefficiente. Oggi se non fossero stati erogati 100 miliardi di euro... Parlavano solo di Fiat? Certo, la Fiat non esisterebbe, punto. Però Marchionne dice che non ha ricevuto la Fiat mai soldi. La Fiat farà cassa integrazione, rottamazioni, fondi perduti, 100 miliardi, quindi sostanzialmente non ci sarebbe più. Per cui è chiaro che passare da un'industria assistita a un'industria sul mercato aperto, ecco, i problemi vengono fuori sotto questo punto di vista qua. Giusto che l'8% del costo del totale sia semplicemente il costo del lavoro, quindi una cosa abbastanza irrilevante, no? Quindi giustamente il sindacalista della FIOM diceva, ma perché andare a incidere? Certo, da un punto di vista etico e strutturale direi che non c'è nulla da dire. Da un punto di vista di messaggio di mercato, invece, è un messaggio forte, nel senso che purtroppo per i lavoratori il mercato deve ricevere un messaggio in modo tale da poter recepire eventuali investimenti da parte dell'estero. Noi oggi siamo drammaticamente in difficoltà, non riceviamo investimenti da parte dell'estero. I soldi vanno dove conviene di più e quindi brutalmente, essendo soldi che non guardano in faccia a nessuno, questo è un messaggio che effettivamente andando a colpire gli interessi dei lavoratori, però da un punto di vista di mercato cerca forse di andare a tappare una falla che è grosso come una casa, perché noi oggi comunque stiamo vivendo un momento in cui mese su mese abbiamo Fiat meno 20%, Fiat meno 28%, cioè se guardiamo il trend delle vendite è assolutamente drammatico. E Audi più 22. Ecco, vammi a dire che ti faccio 50 modelli nuovi, eccetera, ma per intanto la situazione è questa. Se noi andiamo a vedere i rapporti di efficienza e di costo della concorrenza internazionale, effettivamente abbiamo una drammatica situazione. Noi oggi abbiamo quattro opzioni sulla Fiat, non una o due. Quella più logica sarebbe l'insolvenza, perché come oggi nulla preponderà più verso questo fatto. Insolvenza possiamo intendere nazionalizzazione o quello che vogliamo, ma intanto lì andiamo e questa è la prima possibilità. Secondo che tutto resti qua, testa in Italia e controllo, diciamo, di parti mondiali. Le due opzioni più probabili sono quella che Marchionne adesso ha detto, cioè nel 2014 decideremo, ma io preferirei comunque andare in America, quindi è un messaggio abbastanza surliminale. D'altra parte oggi le aziende industriali e automobilisti che sopravvivono soltanto se fanno più di 6 milioni di pezzi. Noi oggi come gruppo Fiat Chrysler stiamo a 2 milioni e 80 come Fiat. È molto difficile arrivare. Sì, forse superiamo i 4 milioni se va tutto bene quest'anno, un milione e mezzo di Chrysler, due milioni rotti. Ma diciamo che per arrivare ai 6 milioni che sono, diciamo, Audi, Volkswagen, Porsche, Toyota, Hyundai e General Motors difficilmente riuscite. E sulle sono le uniche che resteranno in piedi. Quindi per la Fiat che futuro c'è? Assieme a BMW, che BMW è una solta di Apple, quindi sostanzialmente anche un 10% di mercato starà su. Quindi la soluzione, secondo me, è la quarta ancora, e cioè l'accessione o la vendita di Fiat Auto, perché non dimentichiamo che c'è stata fatta una divisione azionaria. Non di Fiat Industria, ma di SBA. Ecco, allora, secondo me l'opzione più probabile è che Fiat Auto possa essere assorbita da uno di questi gruppi e quindi il discorso potrebbe cadere. In questa situazione mi pare che la dirigenza stia cercando comunque di risolvere un problema dimensionale che è importante e quindi raggiungere questi 6 milioni, ed è tutto da vedere che ce la faccia, ma potrebbe anche esserci, perché di fronte a queste crisi di mercato improvvise si potrebbero essere delle situazioni diciamo abbastanza sperequate e quindi si potrebbe anche ragionare in termini di resistenza. Ma io direi che le opzioni sono appunto quella della vendita, quella del trasferimento negli Stati Uniti della testa, la terza e la meno probabile è quella di rimanere così e poi quella dell'insolvenza non fallisce mai nessuno in Italia, va bene, ma comunque teniamo presente che i 100 miliardi che sono stati dati oggi lo Stato non sarà più in grado, proprio anche materialmente in grado. Quindi il problema sociale importante che sottostà a questo tipo di discorso sarà effettivamente in carico alle prossime generazioni.